Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.07, mercoledì 14 febbraio, buon San Valentino a tutti e a tutte, buona giornata in compagnia qui su Crystal Radio di Good Morning Milano, come sempre fino alle 9 per raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città, tutto quello che avviene nella nostra grande metropoli o come dice sempre Simone Lunghi, la più grande, scusate la più piccola metropoli. Del mondo, ebbene sì, questo grande paese che diventa metropoli e che diventa Milano con i suoi quartieri, con le sue storie, con le sue facce, con i suoi protagonisti che siete voi e potete esserlo anche al 3317853555 che è il nostro numero di Whatsapp già pronto, qui bello caldo, rodato per ricevere i vostri messaggi. Quanta era questa mattina che ho detto, wow wow wow, sarà che quando dormo poco funziona così? Eh sì sì sì, perché stanotte ho dormito poco, no non ho fatto grande baldoria, ma sono tornato tardi perché ieri sera sono andato in un posto pazzesco. Allora, è un teatro, un teatro bellissimo, uno dei teatri più belli della nostra città che è il teatro degli Arcimboldi che davvero diventa sempre un luogo magico qualsiasi cosa si vada a vedere. Se poi vai a vedere qualcosa di cui hai delle aspettative bassissime o meglio di cui non conosci assolutamente niente e scopri un mondo, beh, è davvero davvero entusiasmante. Sì, ieri sera sono andato a vedere il musical di Mare Fuori, non me lo sarei mai aspettato, ve lo racconto dopo eh. Ah, dopo vi racconto tutto. Tutagold, Mahmood, beh, grande, Mahmood che ha fatto una grandissima scena in quella di Sanremo, ma vi ho parlato prima di quello che ho combinato ieri sera. Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì, tornato a luna e passa di notte perché è spettacolo, meet and greet dopo con il cast e davvero un'esperienza molto molto interessante. Partiamo dal presupposto, non ho mai visto una puntata di Mare Fuori e molto probabilmente alcuni che mi stanno ascoltando in questo momento sono, diciamo, della mia parrocchia. Non hanno mai visto Mare Fuori, anzi, diciamoci la verità, un po' di pregiudizio verso una, un teen drama, lo chiameremo così, noi magari proprio boomer ce l'avevamo. E ce l'ho ancora, anzi, se dico la verità, non ho ancora visto la serie, ma ieri sera appunto ho visto il musical e devo dire che sono rimasto sconvolto in maniera positiva. Allora, cast pazzesco, cioè davvero dei ragazzi giovanissimi, pensate che siamo poco più di ventenni, cioè davvero una roba pazzesca. Pensare io alla loro età cosa combinavo, veramente vabbè. Comunque, sono tutti ragazzi veramente, veramente giovani. Pensate che Maria Esposito, che è forse la più famosa, che è quella che interpreta Sofia Ricci anche nella serie TV, ha vent'anni. È nata nel novembre del 2003, cioè, e tiene il palco in una maniera pazzesca. Ma ci sono anche tantissimi altri, di cui, ahimè, non ho ben capito i nomi, perché davvero, non conoscendo niente adesso devo andare a capire chi ha fatto chi, no? Cioè, quello con i capelli rossi, ad esempio, che faccia Totò, se non ricordo male, il personaggio. Davvero bravissimo, comico, drammatico, canta, balla, in una maniera da grande musical. La produzione, targata la regia da Alessandro Siani, davvero completa, oserei dire, nelle scenografie, nelle luci, nei suoni, nei colori, nelle canzoni. Canzoni che ovviamente io non ne conoscevo mezza, ma che il pubblico canta praticamente tutte a squarciagola. Con questo cast, ripeto, stellare di ragazzini e ragazzine, molto, molto giovani, che sanno fare davvero, davvero tutto. C'è anche chi arriva da amici, c'è chi arriva dall'accademia, tutti con un background molto corto, molto breve. Hanno un curriculum che ci sta sulle prime tre righe di una pagina scritta con font 22. Però davvero già pronti a fare delle grandi cose e sono rimasto quindi positivamente colpito. E ho capito una cosa, che si ricollega poi anche al fenomeno Joliet, in teoria proprio al fenomeno di tutte quelle canzoni che facciamo fatica ogni tanto a comprendere, o quei fenomeni giovanili che facciamo fatica a comprendere noi nati un po' troppo tempo fa. E' complicato perché sono distanti da noi, è una lingua diversa, ma molto probabilmente la stessa lingua che i miei genitori non capivano quando mettevo a palla i public enemy in mezzo alla stanza. E vi dico la verità, non so se tutti quelli che erano lì capivano i testi in napoletano o le battute in napoletano molto strette che a volte avvengono sul palco, ma scusate perché quando qualcuno di noi va ad un concerto degli U2 e conosce tutte le parole a memoria, sa tutti i testi, quando io ascoltavo appunto Public Enemy, Ram DMC e Tupac alla radio negli anni 90, sapevo cosa dicevano? Non credo. E quindi è il suono, è una cultura, è un movimento giovanile di giovani che vuole esprimere se stessi tramite l'arte. E quindi perché dovremmo essere noi a dire era meglio la nostra arte o è meglio la vostra? E quindi davvero complimenti al cast di Marefuori e complimenti ad Alessandro Siani per questo bellissimo musical. I per me, tu per te, Joliet e con questo chiudiamo quindi la pagina di musica napoletana, diciamo, no? Di quel mondo lì, no? Lo chiudiamo qui così, ma vi assicuro, cioè avvicinatevi ad ascoltare quel mondo perché è importante e interessante, soprattutto se volete capire le generazioni di oggi. Così, ascoltate Zio Fabio che ve lo dice. A proposito di giovani, a proposito di generazioni, a proposito di gente che viene a studiare a Milano, a proposito di giovani che stanno a Milano, ci sono due questioni a Milano che continuiamo a raccontare da tempo. Da una parte lo stadio di San Siro che continua a tirar su, tirar giù, tirar su, tirar giù, spostalo a San Donato, spostalo a Rozzano, no, no, tiralo su, tiralo giù, no, no, rifa la facciata, no, no, rifai il dietro, così, no, andiamo avanti da quattro anni così. L'altro è l'università statale, Mind, deve andare ad Expo, no, 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 non lo spostiamo lì, sì, lo spostiamo lì, ma città studi, chiude città studi, no, non si tocca città studi, così. Altri quattro anni che stiamo a dietro a sta roba. Passo in avanti nella costruzione però di quello che potrebbe essere il mosaico dell'università statale di Milano nel prossimo futuro perché leggiamo da Corriere della Sera Milano Università Statale, il trasloco delle facoltà, scienze politiche a città studi, mediazioni linguistiche in conservatorio. Le facoltà scientifiche attualmente nei padiglioni di città studi si trasferiranno invece a Mind nell'area Expo e infatti funziona così, cioè, allora, la facoltà di scienze politiche lascerà spazio in via conservatorio all'attività del corso di mediazioni linguistiche, mentre informatica e matematica rimarranno a città studi che saranno le uniche però facoltà scientifiche a rimanere a città studi perché tutte le altre si spostano in quel di, come si chiamano lì, Mind Expo, perfetto, l'ex area Expo. Il Dipartimento di Lingue e Letterature, che adesso attualmente sta a Sesto San Giovanni e in Piazza Sant'Alessandro, continuerà ad occupare solo la sede però di Piazza Sant'Alessandro e quindi invece le attività del corso di mediazioni linguistiche, che attualmente sono a Sesto San Giovanni, saranno invece collocate negli spazi di via conservatorio. Chiarissimo, no? Mi sembra che proprio meglio di così non c'è niente. E invece no, perché anche la scuola di giornalismo, Walter Tobagi, che sta a Sesto San Giovanni, sarà trasferita in via Mangiagalli. Di tutto questo giro, e tutti parlano, non toccate città studi, attenzione Mind, anche lo stesso Elio Franzini, il rettore ha detto, è una svolta che dovrà essere gestita con grande attenzione, quindi anche loro sanno che non è così semplice trasferire tutto questo popò di roba, ma la cosa che tra le righe c'è scritto, ma nessuno lo titola, è che lascia Sesto San Giovanni. L'università se ne va alla Sesto San Giovanni, perché letto così non mi sembra che rimanga granché lì. Perché se tutte le facoltà linguistiche vanno in mediazione linguistica, va a finire in conservatorio dove rimane lo spazio vuoto, grazie al fatto che Scienze Politiche si sposta invece a città studi, e poi quegli altri, da lato Baggi, invece li spostano anche loro da lì, li spostano in via Mangiagalli, e quelli invece che facevano, cos'è che era lingua e letterature, che hanno una parte anche a Sesto San Giovanni, li spostano anche loro in Sant'Alessandro, beh allora direi che là non rimane più niente. Quindi adesso non vorrei che arrivi il comitato, no, non si tocchi Sesto San Giovanni. Ragazzi da qualche parte dobbiamo poter aggregare, tra parentesi io pensavo mettessero tutto a mind, invece ad esempio non ricordiamo che informatica e matematica, poi attenzione, ad oggi, 14 febbraio 2024, dovrebbero rimanere a città studi, ma poi non detto che da qua al prossimo anno, in teoria ancora oggi si dice che entro il 2025, cioè l'anno scolastico del 2025, l'anno accademico, 2025 entreranno i primi studenti nel polo universitario di Mind, vediamo, c'è di dire che i città studi costruiscono anche lì un nuovo polo, cioè mettono a posto i vecchi padiglioni del Novecento, ma ci aggiungono anche dei padiglioni avvigneristici collegati con passerelle, trasparenti, cose, robe da Blade Runner, questo è il progetto. I lavori in realtà sono già iniziati, quindi comunque molto probabilmente siamo già verso quella direzione, dall'altra parte Mind è ancora un pochino da sistemare tutto, ma sta andando avanti per quella strada, quindi insomma l'università statale vedrà completamente rivisitata e rivista la sua mappa sul territorio milanese. Adesso andiamo un attimo in pausa, una canzone di Sanremo, poi un po' di pubblicità, poi un po' di consigli di acquisti, un po' di promo per ricordarvi cosa c'è in onda su Crystal Radio e poi torniamo qui con noi. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Grazie mille ad Alberto che scrive Buongiorno al nostro Fabio che tutte le mattine si sveglia prima dell'alba per tenerci compagnia, ma è solo voi che tenete compagnia a me Alberto. E un saluto a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio, buon San Valentino e buon mercoledì decennio. Insomma oggi ce n'è per chiunque per festeggiare, e anche buon mercoledì, ci sta sempre bene, che è il giorno collinetta, quindi avanti così, andiamo con Diodato, ti muovi. The Cure con Lullaby, 7.33 minuti, Crystal Radio, puntata di Good Morning Milano, di San Valentino, e infatti al 331-7-8-5-3-5-5-5-5 arrivano dei Whatsapp a tema. Tra cui quello di Erika, buongiorno a tutti e buon San Valentino, e un abbraccio a chi ancora non ha trovato la sua metà, che sicuramente troverà insopportabile tutto questo amore che ci sarà in giro. Manca una virgola, quindi non capisco se chi trova insopportabile questo amore è la metà che non l'abbiamo ancora trovato, o noi stessi non l'abbiamo ancora trovato la metà. Viola, alzati un attimo e fammi vedere, raccontiamo un attimo ai nostri ascoltatori, è insopportabile San Valentino quando si è soli, oppure un pochino... Vieni qua, vieni qua Viola, vieni qua, vieni qua, mettila a 5, mettila a 5, damma a 5, damma a 5, Viola fa anche la regia video, no? Quindi ecco, mettila a 5, vieni qua e raccontalo a chi ci segue da casa. Allora, buongiorno Viola che entra in studio, saluta il microfono, se no è come se non fossi qui con noi, mette anche le cuffie, ma che brava che è Viola, ok. Viola, com'è vivere questa giornata? No, arrabbiata no, un po' triste sì. No, forse era meglio arrabbiata a quel punto. No, un po' triste. Un po' triste. No, comunque è bello essere invitata qua, per parlare sempre di San Valentino, che non c'è nessuno, per me. Non volevo, giuro, non volevo, adesso ti chiederei. bello, bello, parliamone ancora un pochino. Eh, ma perché magari può portare fortuna, Facciamo un appello anche oggi. Quanti San Valentini sono che li fai da sola? Eeeh. Mamma, che domanda brutta. Infatti. Quanto manca la laurea? Forse era meglio, forse era meglio questa di domanda. Forse era meglio questa, sì. Va bene, però noi facciamo sempre l'appello, volendo possiamo, ok, 331-78-53-555, avete ancora qualche ora per poter invitare Viola fuori a cena, dai, un ristorante preferito, visto che nei piglieri ce ne hai parlato di 8000 ristoranti di Milano. No, allora a me piace tanto Mi Scusi, sono una grande fan. Ma non possiamo fare il tipo di... Ma no, adesso finiamo con Amadeus, adesso ci danno la multa con Amadeus. Ma va, ma dai. Noi chiudiamo qua, Amadeus la paga con le monetine, noi abbiamo chiuso. Vabbè, ok, quindi ristorante di pasta. Pasta. Pasta fresca. Ah-ha. Quale? Eeeh, allora... Lunga, corta? Lunga, io prediligo la carbonara. Carbonara, spaghetto la carbonara? Sì, esatto. Cucina romana. Cucina romana, ok. Ci sono proprio i locali che fanno cucina romana, tra cui quello che appunto hai detto tu. Non potevo dire. Ma sì, ma potevi dire. Tanto non è il nostro sponsor e non credo che qualcuno creda che ci siano complotti per cui chiamiamo Viola. Hai fatto come John Travolta. Esatto, con le scarpe. Sei la nostra John Travolta. Adesso ti faccio fare il ballo del Quacquavuore, siamo a posto. Esatto. Poi non mi firmi la liberatoria per andare in onda, ma tanto sei già in onda, quindi non possiamo fare niente. quindi pasta e quindi la cena romantica, la cena di San Valentino Perfetto, sarebbe lui che ti porta in un ristorante di pasta? Sì, esatto. Qualcosa di semplice, non troppo elegante, non troppo tirato. Ah, il baracchino sulla tangenziale, quello che fa la salamella in circonvalla. Magari a San Valentino, no, però qualcosa di semplice sì. Ah, perché di base sei una ragazza? Sì, semplice. Sì, non mi piacciono le cose troppo eleganti, troppo tirate, no, non va bene. No, non ci piace. No, no. Va bene. Va bene, avete anche, allora, sapete dove trovarla, cioè tutte le mattine su Crystal Radio, sapete, avete le istruzioni, il tutorial per come fare a portarla nel posto ideale, io non so cosa aspettate, e vi dico di più, so anche che canzone mettere per far sì che viola cadra nelle vostre braccia. Esatto. Quella che sta arrivando adesso, ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Ricchi e poveri, ma non tutta la vita, è quello che vi dice anche viola, mi raccomando, non vi aspetta tutta la vita, cioè, quindi fatevi sotto in fretta, perché poi, se no, lei dice, oi, non so qua, che ti aspetto tutta la vita, mica sono qua per te. Tra parentesi, viola, è arrivato un whatsapp al 3317853555, Alberto che dice un saluto alla bella e simpatica viola. Bella in radio, vi siete fidati, non vorrei dire, no, bellissima ragazza, infatti non ci chiediamo come mai sei ancora sola, perché non si vede solo a bellezza, ma anche di simpatia, e su quello, ahimè, non possiamo farci nulla, non è vero, ha un carattere splendido, la nostra viola, sono 15 euro poi viola, mi raccomando, ok, comunque, il numero è ancora caldo, scrivete, avete tutte le istruzioni per il San Valentino con la nostra producer viola. Comunque, un'altra parola che a Milano è sempre sulla bocca di tutti è sciopero, e mentre dovevo leggervi la notizia di uno sciopero, sono andato a vedere che c'è un altro sciopero, quindi iniziamo dal secondo. Proclamato lo sciopero generale nazionale a Milano a rischio mezzi, ATM e treni, l'agitazione proclamata dai sindacati di base per chiedere cessate il fuoco, fuoco a Gaza, 23 febbraio, prossimo 23 febbraio, venerdì, a Milano nel resto d'Italia, va in scena uno sciopero generale nazionale indetto da Sicobas e da altri sindacati di base per chiedere di fermare il genocidio in corso a Gaza. Tutti d'accordo, qui non siamo la RAI, possiamo benissimo dire di voler fermare questo massacro che sta avvenendo a Gaza, dopodiché non credo di poter fare molto se non dire anch'io che sono solidale con chiunque dica stop al genocidio, fermate e cessate il fuoco e basta alle barbarie che avvengono in quella parte di mondo, dopodiché mi viene a dire, io più che dirlo non posso fare e non so quanto abbia senso fare un sciopero nazionale del trasporto su questo tema, non lo so, è un tema veramente così difficile sia lo sciopero che ancora più difficile quello del cessate il fuoco, o meglio non è difficile, cessate il fuoco è facilissimo da chiedere, va fatto, non c'è molto da dire sì ma però, cioè è così, poi andiamo a vedere cosa succede in quell'area, andiamo a vedere il 7 ottobre, tutto quello che volete, ma non so, ma i bambini e non solo che stanno morendo in questo momento a Gaza, forse hanno bisogno di un'attenzione maggiore, soprattutto di un cessate il fuoco. Parlavo di scioperi che non è solo appunto quello dei mezzi ma anche quello dei vigili urbani, Polizia Locale aveva proclamato o meglio detto che avrebbe fatto uno sciopero nella prossima settimana, cioè durante la settimana della moda, avrebbero scioperato la Polizia Locale di Milano, perché? Perché, e lo sappiamo sono venuti anche qui, anzi vi rinvito ad andare a vedere sul nostro sito l'intervista fatta al sindacato di base della Polizia Locale, scusate se è il sindacato unitario di Polizia Locale, che è stato qui nei nostri studi e ci ha raccontato una situazione davvero assurda e quasi direi drammatica come nelle condizioni, soprattutto in cui lavorano tutti i colleghi della Polizia Locale. Sta di fatto che stop, stop allo sciopero dei vigili nella settimana della moda, perché il prefetto fa scattare la precettazione, l'incontro di mediazione tra sindacati e comuni, con i comuni non è andato buono infine. Il 20 febbraio gli agenti non potranno però incrociare le braccia, ma la protesta sulla riorganizzazione dei turni va comunque avanti. Quindi Polizia Locale in agitazione, e dire che non è mai una cosa bella, se coloro che devono vegliare la sua nostra sicurezza sono in agitazione, non è mai un bel momento. Quindi io auspico che prima o poi ci sia veramente un incontro e un dialogo tra l'amministrazione comunale e la Polizia Locale. Giorgia Maria Sara con Corro alle 7.47 minuti su Crystal Radio, pronti ancora per andare avanti a raccontarvi un po' quello che succede nella nostra città. 331-78-5355 il numero di Whatsapp, a cui potete scriverci, grazie a Francesco che ci dice buongiorno Crystal Radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, mattinata complicata per chi va al lavoro, non so perché però Francesco, ma buon San Valentino a tutti, va bene, ok. Mi spiace che sia una mattinata complicata, troveremo il modo di alietartela con magari la bella musica che mettiamo tutti i giorni qui su Crystal Radio, insomma sapete che ci teniamo a farvi compagnia, e ci teniamo a raccontarvi un po' quello che succede nella città. Abbiamo parlato appunto di lo sciopero che potrebbe esserci appunto il 23 di febbraio e dello sciopero invece che non ci sarà la settimana che viene con dei vigili urbani della Polizia Locale perché precettati dal prefetto. Settimana della moda arriva settimana prossima, quindi per quello no? Cioè tanta tanta gente arriverà in città, anche se vi ripeto, dopo essere stato a Sanremo durante il festival di Sanremo, credo che la settimana della moda sia niente in confronto a quello che succede nella città sanremese per una settimana. Vi dico, noi siamo arrivati il giorno prima che iniziava il festival e c'era già tantissima gente. Quindi molto probabilmente dal sabato prima alla domenica c'è il mondo, c'è l'universo mondo che si riversa in quella città. E' vero che la città è molto piccola e quindi tutti lì in quattro vie. A Milano invece abbiamo un'immensità di luoghi che verranno toccati dalla settimana della moda e diciamo che l'effetto dalmata, l'effetto che quindi andranno così qua e là o in caso una zebra a puà, dovremmo dire. Ecco, in quel caso comunque si liberano di più intorno alla città. Ma sta di fatto comunque sarà veramente, veramente una settimana complicata quella che viene. Se ci fosse stato lo sciopero della polizia locale forse sarebbe stato ancora peggio e quindi mi raccomando, se prossima settimana potete fare smart working io ve lo consiglio, è così, a naso. Anche se ci sono i vigili urbani a fare il loro lavoro e non sono in sciopero. In più ricordiamo comunque che sono in stato di agitazione quindi non è che sono felicissimi di star lì a seguire le nostre beghe. Come dire, ce lo fanno per senso del dovere e dovere di servizio, ecco come si dice in questi casi. Ma, come dicevo, non è proprio il massimo sapere di avere una forza di polizia come quella locale poi che è una forza importante che è di prossimità, che è quella che può essere il primo contatto del cittadino soprattutto nei quartieri, soprattutto nelle zone di Milano. sapere che sono in agitazione ancora per l'ennesima volta perché il dialogo con il comune non va bene non è che proprio fa stare bene e felici direi quasi nessuno, anzi oserei dire. Non è che proprio... cioè non sono minimamente, minimamente contenti. Allora, adesso si va in pausa un attimo. Vi metto, grazie all'ufficio programmazione di Cristal Radio andiamo con una canzone di quelle che spaccano di quelle che canterete a squarciagola e che sicuramente sapete intonare senza nessun problema. Poi, cosa succede? Piccola pausa, il giornale è radio e poi siamo di nuovo qui con voi come tutte le mattine fino alle 9 arriverà anche il nostro ospite a breve e parleremo di tante tante cose che succedono appunto nella città di Milano nella città metropolitana e diciamo in tutta la nostra grande Milano che poi, insomma, come dicevo anche all'inizio come dice sempre Simone Lunghi è la più piccola metropoli d'Europa e adesso Cesare Cremonini con Chimica Video Kill the Radio Star e sai cosa ti dico? Eh, vi piacerebbe invece non è così siamo qua ancora alla radio dopo così tanti anni ancora qui a rompervi le scatole tutte le mattine a svegliarvi a tirarvi giù dal letto e, cosa più bella voi a permettercelo di fare perché questa è la cosa bella come sempre vi ringrazio per inserirci nella vostra quotidianità nella vostra routine mattutina che, insomma, c'è gente che non vorrebbe neanche ascoltare la propria madre il proprio fratello ma neanche il proprio amore anche il giorno di San Valentino non vorrebbe neanche sentito parlare e invece accedete alla radio e volete ascoltare noi beh, ma come possiamo fare a non ringraziarvi davvero grazie mille a tutti gli ascoltatori di Cristal Radio 808 mercoledì 14 febbraio 3317853 555 il numero di Whatsapp e grazie appunto per tutti i Whatsapp arrivati fino ad adesso allora seconda parte di trasmissione sapete che iniziamo sempre magari partendo da una notizia e poi vi portiamo un ospite qui che possa raccontarci qualcosa di meglio qualche giorno fa è uscita questa notizia su alcuni giornali quotidiani milanesi il museo degli NFT di Milano chiude fine nel cuore di Brera di un'arte mai divenuta arte già so che metà di voi dicono cos'è il museo di che cosa? NFT ma cos'è quello per pagare con il Bancomat senza toccare? no quello è NFC è un'altra roba l'NFT sono non ve lo so spiegare bene neanche io sono dei tag adesso comunque sapete cosa c'è? lo chiedo al nostro ospite il professor Luca Siniscalco buongiorno buongiorno professore buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie per l'invito prima di chiedere che cos'è l'NFT però io devo chiedere una sua specifica perché lei è professore di estetica ecco molti si chiedono ma cos'è l'estetica? l'estetica è tante cose ma quella branca della filosofia che si occupa della percezione che in greco si dice e delle teorie sul bello e sull'arte filosofia dell'arte teoria del bello perché c'è il bello quindi è oggettivo? questa è un'altra parola questa domanda questo in occidente ce lo chiediamo da 2500 anni e non siamo ancora arrivati però ci sono tante tante posizioni sicuramente per esempio il bello non è automaticamente sinonimo di piacevole ci sono perché risponde a delle categorie specifiche che molti filosofi hanno riconosciuto essere appunto delle proprietà oggettive delle opere d'arte o anche di elementi della natura quindi non necessariamente deve essere poi appunto piacevole quella cosa lì l'abbiamo chiamata professore perché appunto lei è professore di estetica è un esperto di arte anche curato numerose mostre in questa in questa città e quando abbiamo sentito che chiudeva un museo un museo un po' particolare per me dobbiamo parlare con qualcuno che ci spieghi bene cosa sta succedendo allora gli NFT per spiegarlo a chi proprio non ha idea di che cosa sia cioè non sta chiudendo il museo dei quadri non sta chiudendo il museo delle sculture fatte di ceramica o le sculture fatte di plastica cioè non è una cosa così specifica l'NFT è un po' particolare perché è una tecnologia giusto? esatto corretto infatti io stesso che non ho particolari competenze informatiche posso limitarmi a dire che si tratta di certificati di autenticità digitali che servono a garantire l'unicità di un'opera d'arte digitale ok NFT è una sigla è un acronimo che sta per not fungible token e si riferisce proprio a questa tecnologia che è basata sulla famosa blockchain che permette di garantire agli utenti che il file di fatto che contiene l'opera d'arte che uno può acquistare collezionare e vendere sia unico ok e quindi non riproducibile ah ok quindi non posso fare la copia di quel file voi fate le copie delle vostre immagini le vostre foto ti mando la copia della mia foto no se c'è l'NFT voi non potete cioè anche se ci fosse una copia comunque non sarebbe certificata e quindi dici no ok questo è facilmente ma sarebbe interessante su certe opere d'arte che insomma sappiamo essere magari dei falsi d'autore se ci fosse l'NFT potremmo subito capire quale è l'origine e quale no esatto è molto interessante proprio per la determinazione del valore perché è un grande problema dell'arte digitale che non coincide necessariamente con gli NFT perché con arte digitale possiamo definire in generale tutte quelle opere realizzate attraverso strumenti digitali anche iPad computer ci sono tanti programmi di scrittura pittura disegno no attraverso queste tecnologie che però fino all'invenzione degli NFT erano potenzialmente facilmente duplicabili uno produce un JPEG si può all'infinito ma che è vero ragazzi qui dobbiamo pensare questo non è che l'arte sia solo quella che avete in mente voi il quadro da attaccare alla parete o la scultura da tenere nell'angolo del vostro immenso salotto in quella di City Life no c'è tanto anche altro tra cui appunto l'arte digitale qui poi si apre tutto un mondo però a quel punto chi sono gli artisti chi la può fare chi non è arte cosa è arte anche sono domande complicate a cui io comunque cercherò di dare una risposta insieme appunto al professor Siniscalco non prima però di ascoltare un bel brano che so che apprezzato i Foo Fighters vanno bene professore vanno benissimo oh bene 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 allora se il professore di estetica dice che i Foo Fighters vanno bene non possiamo che ascoltarli allora Foo Fighters con The Glass qui a Good Morning Milano Crystal Radio avanti Foo Fighters The Glass sempre qui con il professor Siniscalco allora a parlare di arte parlare prendiamo spunto dalla chiusura del museo Dynamic Art Museum NFT di Milano per capire un po' questo fenomeno quando dicevamo appunto l'NFT sembrava la risoluzione a tutti i mali del mondo un museo sembrava dire cavolo potrebbe essere la fine di tutti i musei e invece il primo museo che è finito era stato lui adesso non ci adentriamo nelle questioni finanziarie ma più che altro ci adentriamo nelle questioni un po' di pubblico e di risposta del pubblico e di come è stato concepito anche l'idea di concretizzare una cosa che come l'NFT non è poi così concreta sì chiaramente questa chiusura è stato un simbolo molto potente all'interno del dibattito se ne parla tanto nel vostro ambiente abbastanza perché diciamo l'apertura di questo museo aveva fatto molto scalpore proprio perché queste opere d'arte che nascono per essere prodotte vivere nel digitale diventavano qualcosa di reale da un punto di vista proprio materiale nel senso che si tratta di un museo fisico dove uno entra e vede le opere che vengono riprodotte attraverso degli schermi appesi come se fossero delle tele essenzialmente quindi c'è quest'idea in qualche modo di affiancamento dell'arte tradizionale cioè dell'arte digitale a quella tradizionale e una sorta di concretizzazione di materializzazione di questo tipo di arte il museo vedeva tantissimi artisti continuare anche a produrre opere nel senso che erano sempre aggiornate queste opere cosa che magari un museo tradizionale non può fare così facilmente ma anche questo non li ha salvati dalla fine sì ci sono tante ragioni diciamo al di là appunto di una situazione economica specifica esatto per cui gli NFT vivono attualmente un momento di crisi anche se la tecnologia rimane estremamente profittevole e molto interessante per i possibili usi che se ne possono fare sicuramente c'è stato dopo un'iniziale dopo un'iniziale fascinazione del pubblico che chiaramente di fronte a un prodotto così nuovo è rimasto molto colpito ci sono stati una serie di fenomeni complessi un po' contraddittori il valore ad alcune aste di questi NFT ha raggiunto delle quotazioni spaventose e questo ha come dire indotto una riflessione a fronte di artisti che per tutta la carriera lavorano mettendoci sudore sangue tutta la giornata con una formazione complessa vedendo magari opere quotate alcune migliaia di euro ecco vedere questi lavori realizzati talvolta persino nemmeno dall'artista nel senso che l'artista dall'idea poi serve una persona con competenze digitali che la realizza qui infatti nasce una domanda quindi a questo punto c'è chi è l'artista in quel caso chi ha l'idea chi lo realizza non esiste più il concetto di artista che fa direttamente con questa domanda secondo me tocchi un punto rilevante che riguarda poi un po' l'essenza dell'arte gli NFT da questo punto di vista si inseriscono in una visione dell'arte che è nata nel novecento essenzialmente che valorizza soprattutto la dimensione concettuale un po' come per fare un esempio celebre della storia dell'arte l'orinatoio di Duchamp che è un ready made un oggetto che fondamentalmente era un orinatoio che collocato in un museo viene definito fontana aveva fatto anche credo uno scolatoio di bottiglie o qualcosa del genere anche vero giusto ecco lì qual è il valore artistico non la produzione tecnica evidentemente che non c'è ma è il concetto che nel caso di Duchamp che è stato geniale perché il primo ad aver ideato questo tipo di arte era legato alla capacità dell'artista di trasfigurare di trasformare l'oggetto comune in grande capolavoro come un po' la merda d'artista se riesco un orinatoio riesco a diventare un'opera d'arte ecco la grandezza dell'artista ecco cosa può fare un artista sì esatto e questa idea che il concetto in qualche modo sia superiore rispetto alla realizzazione materiale in una forma totalmente diversa però secondo me riemerge negli NFT tanto che ci sono molti artisti che come dire dichiarano senza problemi che loro si limitano a fornire appunto un concept e questo viene trasformato in arte addirittura alcuni questa è un'altra tendenza ancora più recente hanno iniziato a realizzare delle copie NFT di loro opere materiali questo è anche interessante e questo è molto interessante perché diciamo una fruizione un po' come il libro e l'ebook diventerebbe non c'è un senso quella però allargherebbe a una fruizione duplice delle proprie opere d'arte è un utilizzo uno fa una scultura che è disponibile in materiali di ferro piuttosto che marmo eccetera chiaramente che ha dei problemi anche di trasporto di collocazione e poi ne produce una copia digitale che potrebbe essere poi un ologramma volendo un giorno e quindi magari pensare di fare delle mostre di opere che non potremmo mai trasportare magari perché no metterle così ecco noi rischiamo di chiudere l'NFT solo nell'idea della tecnologia cioè è una tecnologia come fosse un MP3 per ascoltare la musica mi stai dicendo un po' quindi che non è solo quello apre scenari possibili invece esatto quello sicuramente perché permette una fruizione dell'arte molto ampia e infatti nasce proprio da un'idea di democratizzazione dell'arte di diffusione pervasiva ma l'NFT nasce subito legato al mondo dell'arte o arriva da un altro mondo e poi è stato preso dal mondo dell'arte nasce con queste tecnologie appunto blockchain eccetera ed è l'applicazione diciamo quasi subito l'arte l'ha applicato immediatamente appena visto che c'era questa tecnologia ha detto ci piace la prendiamo sì ma adesso più o meno il concetto è quello sappiamo che poi può essere utilizzato anche per certificare qualunque cosa non solo opere d'arte anche oggetti che hanno a che fare con altri con altri sistemi spesso si parla di crypto art ad esempio in riferimento specifico all'arte che usa NFT la cosa interessante che ho detto prima è che in realtà però ad esempio non è che va poi così tanto a ribaltare le regole dell'arte perché appunto Duchamp il concetto c'era già all'epoca è cambiato solo l'oggetto finale che poi si va ad esporre no? sì esatto di contro quel processo di cui parlavo di democratizzazione dell'arte sembra essere un po' fallito o perlomeno è contraddittorio se sia riuscito proprio anche per i valori che queste opere hanno raggiunto in particolare è celebre il caso che ha reso un po' gli NFT che prima erano una realtà più di nicchia un po' da da nerd del mondo digitale celebre in tutto il mondo è stata la vendita all'asta di quest'opera di quest'artista che si chiama Bipel il suo pseudonimo che ha realizzato quest'opera intitolata Every Days The First Five Thousand Days cioè i primi 5.000 giorni che è una sorta di raccolta digitale di tantissime opere digitali che lui ha realizzato in 5.000 giorni appunto e che vogliono proprio concettualmente rappresentare la quotidianità la vita dell'artista quest'opera che non aveva base d'asta è stata venduta a 69 milioni di dollari e ha raggiunto la terza quotazione più alta di un artista vivente nella storia dell'arte e questo ha creato un grosso dibattito e beh immagino immagino arriva così per rompente la nuova tecnologia e cambia così le regole del gioco andiamo avanti con un po' di musica adesso è il momento di Dito nella piaga insieme al rettore con Chimica sempre qui alle 8.25 su Crystal Radio Good Morning Milano a fra poco e beati gli ultimi diceva qualcuno in questo caso parliamo dell'ultimo che è arrivato a Sanremo e si raffredde palma con la sua canzone appunto presentata a Sanremo che è arrivata ultima ma ripeto come sempre quando presenti 30 artisti diciamo che dal 10 in giù sono tutti ultimi oppure sono tutti decimi cioè nel senso non è che votarne 30 non è presente che quanti sono comunque stiamo parlando con il professor Siniscalco stiamo parlando di arte prendiamo appunto spunto dalla chiusura del museo degli NFT chiuso in Brera stiamo parlando un po' di tutto quello che può voler dire arte io infatti anche con gli NFT ma non solo ma anche con l'arte concettuale arrivo a farmi la domanda che forse tutti spesso ti fanno ma a questo punto quindi chi può considerarsi un artista cioè chiunque può considerarsi un artista ormai nel 2024 questa è un'altra domandona perché ovviamente ci sono interpretazioni più varie tu hai filosofia quindi tu le domande non mi rispondi cioè tu te le fai ma non rispondi è così il professor si discalca mi scusi è un furbo escamotabile usiamo fin da Socrate per evitare di dare risposte efficaci c'è una frase famosissima di un grande filosofo Dino Formaggio che diceva arte è ciò che definiamo arte che è un circolo ermeneutico divertente furbo proprio per segnalare che forse questa era la sua ipotesi da un certo punto di vista è proprio la pratica artistica definire ciò che è arte cioè quando come dire una comunità un gruppo sociale culturale riconosce un fenomeno come arte lì come dire va etichettato come tale ma ovviamente ci sono molte altre interpretazioni il riconoscimento degli altri tu non puoi dirti artista se non sono gli altri che conosciati in un certo senso in un certo senso sì poi io ma questa diciamo la mia personale prospettiva ritengo che in continuità con la tradizione europea di riflessione su questi temi che l'arte abbia bisogno comunque di una centralità della dimensione sensibile l'arte trasmette conoscenza comunica contenuti valori emozioni attraverso l'utilizzo da parte dello spettatore dei cinque sensi e quindi sebbene sia fondamentale che un'opera d'arte incarni un'idea non può essere ecco un puro concetto altrimenti si rientra nell'ambito che io amo molto della filosofia che si serve appunto di elementi puramente concettuali l'arte ha bisogno di materia di una presenza fisica in una certa misura che può essere anche digitale ma come dire deve interpellare i sensi l'esperienza e deve essere capace di comunicare non basta un'idea come diceva Gaber come era un'idea un concetto un'idea finché resta un'idea è soltanto un'astrazione diceva Gaber se potessi mangiare un'idea avrei fatto una rivoluzione non è solo quello poi c'è tutta la dimensione tecnica realizzativa l'arte in Grecia era indissociabile dall'artigianato ah giusto se non sapevi scolpire il marmo quello che era esatto anche quello è parte della formazione delle competenze dell'artista ho detto un errore non so ci usava il marmo in Grecia ci usavo c'è una meditazione che come dire che l'artista fa mentre lavora alla materia e quindi l'idea che l'elaborazione di un concetto possa sostituire l'arte è che succede scomplicato adesso si ha l'idea si ha il concetto poi l'arte il pezzo d'arte viene creato da qualcun altro se non direttamente magari a volte anche da delle stampanti 3D ormai anche questo immagino giusto sì anche queste sono molto utilizzate anche lì dipende poi dal dal tipo di lavoro che uno fa nel senso che ci sono alcuni artisti anche molto interessanti che magari partono da lì quindi realizzano un prodotto in quel modo ma poi lo lavorano ulteriormente e alcuni e anche questo è interessante fanno loro l'opera quindi acquisiscono le competenze diciamo di tecnico digitali chiaro che è problematico a mio avviso sempre parere di chi parla quando l'artista è un semplice ideatore quindi e quando l'artista ha una grande come dire potenzialità economica chiaramente incredibilmente facilitata nella realizzazione uno viene un'idea comunica al team e questo e il team lo fa tira fuori l'opera effettivamente lì diventa più complicato poi scendere chi è l'artista e chi la realizzazione quindi è complicato sicuramente quello che non deve fare l'arte è annoiarvi perché questo è fondamentale perché dico questo perché adesso invece andiamo con una canzone che parla di noia ma non ci ha annoiato anzi l'ha portata l'artista di questa canzone al successo nell'ultimo festival di Sanremo sto parlando di Angelina Mango con La Noia Total Angelina Mango La Noia è Total era quello che si era detto quando sono usciti gli NFT dicendo ragazzi Total abbiamo trovato la nuova dimensione dell'arte e invece dopo due anni il museo chiude ce ne faremo una ragione come dire no professor Siscalco sì quello anche che penso abbia distolto molti da questo mondo è legato a questo processo di estrema finanziarizzazione di questo mondo com'era la storia della figurina non so che era successo con la figurina famosa una figurina a milioni di euro per una figurina com'era che era? sì penso ti riferisci a quella come dire rappresentazione di una scena dell'NBA sì che era stata venduta a una cifra assurda e di fatto non era era una sorta di foto di un momento di gioco quindi non era una cosa fatta a posto cioè non era una cosa prendo prendo Kobe Bryant la situazione lo metto lì gli faccio una foto posata anche in campo sicuramente non era una foto d'artista non era una foto d'artista cioè uno scatto qualsiasi che vorrei avrei voluto fare io col mio iPhone da bordo campo però diciamo era stata certificata e inserita in un contesto per cui era diventato un po' un emblema dell'NBA ancora una volta il contesto infatti quello che rende o non rende qualcosa qualcuno qualcuno arte io voglio una domanda che puoi capire se ci sono delle regole nell'arte e se queste sono sempre quelle o se sono state cambiate nel tempo nel tempo sono state stravolte stravolte in ogni contesto in ogni diciamo epoca sicuramente potremmo dire che c'è un canone proprio semplificando ma c'è un grosso grande canone occidentale che nasce a partire dalla Grecia e si sviluppa tra tante trasformazioni sino alla modernità che è basato comunque su dei parametri di armonia simmetria su una serie di regole di principi anche formali che poi vengono messi fortemente in discussione dall'arte moderna nell'ottocento l'impressionismo ad esempio e poi in maniera radicale dalle vanguardie del novecento quindi diciamo con futurismo cubismo poi da daismo l'arte viene stravolta e questo sia negli esiti formali che concettualmente ecco viene sempre stravolta e non torna mai sui suoi passi in un certo senso non so come dire la moda spesso lo fa no? cioè noi vediamo i ragazzini adesso vengono vestiti come amici degli anni 80 praticamente più o meno 80 e 90 ci sono delle ondate di ritorno però essendo secondo me in un contesto nuovo questo è interessante sono sempre arricchite dalla consapevolezza quindi ad esempio la capacità di dipingere o disegnare secondo quegli schemi tradizionali di cui parlavo tuttora viene spesso valorizzata nell'accademia e si insegna a farlo però è considerata come dire una base che solitamente viene poi stravolta riletta dall'artista anche se negli ultimi anni c'è stato perlomeno in Italia un certo ritorno ad esempio al figurativo rispetto all'astratto che è stato a lungo dominante negli ultimi decenni chiarissimo allora professor Siniscalco siamo arrivati alla fine io devo ringraziarla abbiamo capito secondo me è meglio che cos'è tutto questo mondo ma soprattutto come l'arte in realtà abbia tante facce è anche sbagliato pensare che una cosa lo sia l'altra no mi sembra a questo punto che il critico deve andare un po' oltre così o cos'ha è un mondo complesso è anche direi un po' un agone dove si scontrano diverse sensibilità prospettive e una caratteristica dell'arte contemporanea è proprio il pluralismo purtroppo o per fortuna questo dipende dai punti di vista probabilmente non ci sarà uno stile del contemporaneo come c'è stato invece uno stile romanico gotico barocco una unità formale espressiva che caratterizzò un'epoca viviamo oggi proprio nell'epoca del pluralismo della frammentazione del dialogo e scontro fra oriente e occidente fra arte tradizionale e arte futuribile e vedremo poi se da questo coacervo nascerà una dimensione più unitaria se vogliamo iniziare a capirne di più come possiamo fare quale può essere la strada ci faccia un po' da google maps dell'arte allora rispetto al contemporaneo penso incentrarmi su quello perché di questo che abbiamo soprattutto parlato io consiglio anche se è un po' impegnativo comunque un minimo di formazione nel senso che ho anche autoformazione però significa leggersi qualcosa perché il gusto va educato e noi nel nostro sistema educativo siamo più abituati a essere formati a un gusto classico quindi poi dipende da che scuole si fanno però qualcosa di arte antica di arte rinascimentale tutti l'abbiamo studiato visto ci hanno portato in qualche museo quella lì la capiamo un po' meglio o comunque la digeriamo meglio perché ce l'hanno un po' insegnata comunque ce la continuano a far vedere ce la raccontano quell'altra facciamo più difficile di girerla perché non sappiamo cos'è sì è chiaro che se si entra in un museo di arte contemporanea senza alcun elemento di contesto quest'arte che già a volte a mio avviso pecca un po' di quella incomunicabilità diventa totalmente incomprensibile invece calandola nel contesto storico nelle sue funzioni ci si può avvicinare con maggiore consapevolezza perfetto allora veramente grazie mille di essere stato qui con noi se vogliamo seguire un po' quello che fa so che poi scrive anche libri ogni tanto insomma ci sono dei profili che possiamo seguire dei blog dei siti non lo so ho diciamo in forma più divulgativa facebook metto tante cose il mio profilo personale poi un profilo su accademia.edu che è un sito un po' più per le pubblicazioni scientifiche così a me andate a leggere le cose scritte bene fatte bene non con le mie domande inutile a interrompere il professor siniscalco professor luca siniscalco grazie mille resta qui con noi grazie a voi per l'invito e per questo dialogo molto interessante e divertente grazie mille ancora andiamo con un po' di musica allora poi il professor può dire quello che vuole però io c'è dell'arte che riconosco universale come la prossima canzone un giro di chitarra uno swing da sultani perché loro sono i death rates con sultans of swing alle 8.47 qui su cristal radio good morning milano 8.54 minuti di oggi mercoledì 14 febbraio San Valentino siamo arrivati alla fine di questa puntata di good morning milano grazie a tutti per averci ascoltato anche quest'oggi grazie ancora per averci fatto entrare nelle vostre case nelle vostre auto radio nelle vostri pantaloni no non in quel senso nelle tasche dei pantaloni in cui avete lo smartphone cosa avete pensato sono le 9 del mattino ma dai niente Viola sbatte la testa a destra e a sinistra per dire che non posso fare certe battute vengo redarguito dalla nostra producer che oggi ci ha anche raccontato il suo San Valentino ideale va bene Viola un piatto di pasta asciutta e la canzone dei ricchi e poveri va bene sono boomer anche nel definire la pasta l'ho chiamata pasta asciutta lo sentivo dall'84 tutto colpa mia e voglio ancora ringraziare Andrea il mio compagno di viaggio di ieri sera che mi ha portato a vedere mare fuori con cui abbiamo vissuto questa esperienza in quella del teatro di Arcimboldi oggi vedrete tutto quanto sui nostri social perché sarà un bel racconto della serata di ieri sera e noi invece ci sentiamo domani mattina alle 7 alle 9 sempre qui su Crystal Radio con una puntata di Good Morning Milano dopo di noi senti questa con Ambrogio Curti buona giornata a tutti e buon San Valentino a tutti quanti ciao e buon San Valentino 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 Grazie.